Eccoci, non c'è un solo motivo al mondo per non ripartire da qui, alla vigilia di una partita. Massimo rispetto, massimo seque. Scemo domani alle 18, speriamo bene, grazie. Vigilia di Lecce e Milan allora, la conferenza stampa di Stefano Pioli l'avete vista e sentita e mi è sembrato che il tono del nostro allenatore fosse costruttivo. Non ho colto aria di schiaffi e di furia. Ho colto sacro fuoco nel petto. Quanti di noi, per le proprie vicende lavorative, arrivano a sera con un problema non metabolizzato e ci rimuginano la notte? E con il nostro lavoro diamo corpo e senso alla nostra vita, diamo sostentamento alle nostre famiglie, è fondamentale il nostro lavoro. Quindi che Stefano Pioli, in maniera molto trasparente, abbia raccontato dopo la partita col Torino, non ce la facevo ad aspettare il giorno dopo, volevo subito unire l'utile, un confronto veloce con la squadra su quello che non è andato contro il Torino. Al dilettevole, cioè essere subito a Milanello per evitare, dopo aver finito tardi supplementari, essere usciti in mezzanotte e mezza da San Siro, mettersi in macchina la mattina presto per raggiungere Milanello, ci rivela questo atteggiamento, quello che scrivevo questa mattina nel titolo, fame. Fame, c'è ancora tanta fame da parte nostra. Non c'è rilassatezza, non c'è approssimazione, non c'è superficialità. Il mister è entrato nel merito e ci ha raccontato in conferenza che se tiri 36 volte in porta e 8 solo nello specchio, quando sei in 11 contro 10, vuol dire che tiri un po' tanto per tirare, è sicuro che tanto prima o poi segni, quindi provo da questa parte e provo da quell'altra. No, ogni tiro deve essere fatto per segnare, dal punto giusto per segnare e dal posto giusto per segnare. E quindi la lucidità nel gestire l'11 contro 10, la nostra superiorità numerica, è quello che ha riscontrato il nostro allenatore che ci è mancato contro il Torino. Nelle conclusioni e anche nello specifico sull'azione del gol del Torino che Stefano Pioli ha ricostruito e che ha analizzato davanti a tutti. Quindi mi è sembrato, la prima domanda che ho fatto è cosa ha letto negli occhi dei propri giocatori. Volontà e determinazione. Volontà e determinazione non nascono mai dalla furia e dagli schiaffi, come si può pensare all'esterno. Nessuno schiaffo e nessuna furia. Ma dialogo adulto e maturo è confronto per risolvere i problemi, non per aggravarli. E quindi questo è quello che è accaduto dopo la parita di Coppa Italia contro il Torino, che è la stessa cosa che è accaduta dopo la parita con il PS Weindhoven in amichevole lo scorso 30 dicembre. E quindi questa è la situazione nella quale ci troviamo. Milan in campo domani alle 18, poi domani è 14, poi il 18 la Supercoppa, poi il 24 Lazio-Milan. Quindi tre importanti partite, tutta in trasferta, anche se naturalmente la partita di Riad fra Milan e Inter è una partita in trasferta per entrambe, per cui è una finale in campo neutro e vedremo come andrà. Però è chiaro che ogni snodo stagionale è particolarmente rilevante, in particolar modo questo. Dai recuperi di Origi e Chier per Lecce, di Origi, Chier e forse Rebic per Riad, si evince anche la voglia di esserci, la voglia di recuperare. È stata fatta al mister la domanda sul mercato. Succede una cosa strana, io so di parlare a voi che volete il mercato, che ritenete ci siano ragioni per fare mercato e che si debba fare mercato. Il vostro parere lo conosco. Quindi la posizione della stragrande maggioranza dei tifosi del Milan è che la squadra non vada bene e si debba cercare di ritoccarla il più possibile perché col mercato si possono risolvere i problemi e si può crescere. Questa è la posizione legittima dei tifosi del Milan, o di una buona parte dei tifosi del Milan o della maggioranza dei tifosi del Milan, fate voi. Quello che io personalmente vedo dall'altra parte della barricata in questo caso è che non è un discorso quello del Milan di pura e semplice sostenibilità. Il Milan se ha risorse e ricavi da investire li investe nella squadra. Negli ultimi due mercati tutti i proventi Champions e Scudetto li abbiamo investiti sul mercato. Tra l'estate 21 e l'estate 22 il Milan ha speso tanto. E lo ha fatto perché crede nel suo percorso, crede nella sua crescita, crede in quel miglioramento a tappe che è un po' il nostro cammino, che stiamo facendo. Dal gennaio 2020, da quando è arrivato Stefano Pioli, che aveva già posto le premesse, alcuni prodromi nel dicembre 2019, da quei mesi, da quelle settimane, da quei periodi stiamo continuando a crescere. Però quello che mi chiedo è perché se il Milan non fa mercato c'è del torbido, in una finestra, in una seduta, diciamo così, di calcio mercato come questa invernale in cui il mercato non lo sta facendo nessuno, e come potrebbe fare mercato il calcio italiano se è appena beneficiato di un decreto per spalmare la propria strategia, il proprio modo di pagare le tasse. di fine anno. Come puoi ottenere questo importante provvedimento e poi metterti a fare mercato come se nulla fosse? Stefano Pioli lo ha detto con molta chiarezza, io capisco al limite un anno, Stefano Pioli lo ha detto con molta chiarezza, stavo andando da un discorso all'altro, che la squadra al completo è forte, la squadra al completo è completa. È chiaro che bisogna tornare al completo o quantomeno, perché al completo del tutto non si è mai, però il più possibile fisiologicamente vicini all'essere al completo. Ed è quello che stiamo lavorando per fare, anche perché ricordo a tutti che quest'anno è vero, siamo usciti dalla Coppa Italia e ci dispiace, è stato brutto, è stato pessimo uscire dalla Coppa Italia, in quel modo quando avevamo la partita in mano come ce l'avevamo con la Roma. Ci sono sfuggite due partite in mano e quando hai in mano le partite, tenerle in mano significa essere particolarmente lucide e particolarmente cattivi. Ecco, quello che dobbiamo fare da Lecce in poi è essere particolarmente lucide e particolarmente cattivi. Però l'anno scorso avevamo superato gli ottavi di Coppa Italia, anche lì andando ai supplementari con il Genoa, rischiando di uscire, non siamo usciti, questa volta non rischiavamo di uscire, siamo usciti. Pensate com'è bizzarro il calcio. Però l'anno scorso a gennaio eravamo fuori dalla Champions League, quest'anno siamo dentro. L'anno scorso eravamo secondi in classifica, quest'anno siamo secondi in classifica. Qualcuno dice, ma l'anno scorso avevamo un punto di distacco dalla prima, adesso sette. Vero, però l'Inter l'anno scorso aveva fatto un periodo da Napoli dopo le prime 17 giornate. E quindi conta anche la diversa fase del campionato, la diversa situazione del campionato. Io per carità è bruciato a me più che a tutti quel 2-2 della Roma e il gol del Torino, perché ripeto erano due partite che sentivo vinte. Quindi se le sentivo vinte, se le sentivo sia, col Torino eravamo 0-0, però il pensiero più normale che si potesse fare in quel momento, beh, insomma, adesso sono entrati i, tra virgolette, titolarissimi. Il Torino è in 10, andiamo a vincere questa partita. E invece no, non l'abbiamo fatto, anche se eravamo solo 0-0. Però al netto di questi due ultimi finali di gara che non sono andati bene, in cui abbiamo preso due gol dalla Roma e uno dal Torino, dalla Roma nel secondo tempo regolamentare, dal Torino nel secondo tempo supplementare, se siamo arrivati a quel punto delle partite in controllo, 2-0 con la Roma e in controllo della partita col Torino, vuol dire che prima qualcosa abbiamo fatto a livello di prestazione. Perché anche contro il Torino non è tutto da buttare. Perché contro il Torino, ad esempio, le cosiddette seconde linee, non mi piace chiamarli così i nostri ragazzi, ma così ci capiamo, uso il termine che viene utilizzato dall'esterno per chiamarli, le cosiddette seconde linee contro il Torino hanno giocato molto meglio rispetto all'amichevole di Eindhoven di fine anno. Molto meglio, più organizzate, con più senso, con più solidità, con più attenzione. Quindi non è tutto da buttare. Se siamo arrivati a quei due finali pensando di poter vincere le partite contro Roma e Torino, a noi è mancata la lucidità e la cattiveria finale. Ed è una cosa che dobbiamo tornare ad avere in fretta, assolutamente in fretta. Perché domani sappiamo tutti quanto sia importante, quanto sia pesante il croce via leccese. Ciao a tutti, ci vediamo e ci sentiamo domani mattina, prima della partita e dopo la partita al termine di Leccevina. Ciao a tutti e domani.